E' incredibile che una tale massa di terra sia sospesa in cielo. Ancora adesso mi stupisco di quanto avanzata fosse la civiltà Zonao. Miei cari amici, sono così lieta di vedervi tutti qui riuniti. Perché, sapete, desideravo tanto mostrarvi rule da quassù. Io non sono mai stato in un posto tanto in alto. Già, hai visto che panorama? Principessa Zelda, siete stata quassù tutto il tempo, vero? Sì, anche se purtroppo non mi ricordo nulla. Non avrei mai immaginato di poter fare ritorno in questo posto. Questa è solo una mia teoria, ma il potere della luce di Raul e quello del tempo di Sonia hanno realizzato questo miracolo. Ed è Link che lo ha reso possibile. Sì. È il momento di dirsi addio. Minero, no! Ce l'avete fatta. Il fardello che vi avevamo lasciato in eredità non esiste più. E grazie a tutti voi, ora il mondo è salvo. Finalmente, posso raggiungere Raul e gli altri. Oh! Oh! Tutti noi, qui in Miniti, promettiamo di aiutare la principessa e... Vi aiutare la principessa Zelda e proteggere la magia di Lune! Lo farò sapere a Raul e Sonia. Oh, Minero! E riferirò a loro anche della tua gratitudine. Oh! 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 Vi ringrazio. Ciao! Sua maestà Raoul, la regina Sonia, Mineru, gli antichi saggi, tutti loro avevano un sogno. Non cercavano solo un'effimera tranquillità, desideravano Pirirule una pace duratura. E affinché quel sogno diventi realtà, ho bisogno di tutti voi. Perché è solo così che ce la faremo. Insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti.